Immagini forti, persomaci forti, colori accesi mixati a quelli cupi, occhi che non dimentichi. La mostra Voci dal Silenzio è tutto questo, una carrellata di ciò che può essere violenza, colta anche al suo apice, che è la morte, quella di tante donne vittime delle mani dell'orco. A dipingerle sulla tela, Diego Testolina, artista forense, esperto di fisioniomica, che lavora nella sezione analisi del crimine violento della Polizia Scientifica di Padova. Le sue opere saranno esposte a Palazzo Comunale, nella sala della consulta, grazie alla collaborazione con Legalarte, associazione nata dalla volontà di un gruppo di appartenenti alla Polizia di Stato, con lo scopo di promuovere la legalità attraverso la cultura. L'allestimento, voluto per celebrare il 165esimo anniversario di Fondazione del Corpo, sarà visitabile da oggi, il sabato, il lunedì, il martedì e il mercoledì dalle ore 9 alle ore 18 e la domenica dalle ore 10 alle ore 17.